Questa è la nostra vita, questa è la vena della chiesa, e noi ci doiamo, che stava con un scritto di 18 anni. Per il Dato, il Dario è incontro che io ho fatto patente con la vena della chiesa, e che abbiamo fatto un caso, che è il Dato. Grazie.